Buongiorno a tutti, spero si senta ben arrivati a Prato, ben arrivati a questa manifestazione che per noi diciamo che ospitiamo in questa città da quando ci siamo insediati, da quando abbiamo l'onore e l'onere di guidare questa città perché insomma la prima chiacchierata che facemmo con Marco quando ci siamo incontrati ci sembrò un'intuizione giusta, quella di organizzare una manifestazione che avesse queste caratteristiche e fumo molto contenti diciamo che si potesse fare a Prato perché in questi anni poi, ma allora avevamo solo l'obiettivo di farlo, diciamo volevamo e poi l'abbiamo fatto investire molto sui temi del digitale, sui temi dell'innovazione. Prato è una città particolare, è un distretto industriale, è un distretto che ha nella sua storia una storia di impresa e di trasformazione anche del territorio grazie alla sua impresa, anche di trasformazione socio-economica perché in questa città sono arrivate persone da tutte le parti del mondo, non da ora ma dagli anni sessanta che si trasferivano qui per lavorare eccetera. E oggi dopo la crisi del distretto tessile ma in generale nella fase di trasformazione che ha avuto la nostra città per noi investire sui temi dell'innovazione del digitales è una scelta politica importante e ci interessa farlo da tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'attrazione delle imprese, dal punto di vista della trasformazione del territorio ma ci interessa anche affrontare i temi di cambiamento che questo comporta nella società moderna e quindi vorremmo che nella nostra città questa riflessione, la riflessione su come le nuove tecnologie stanno trasformando le relazioni umane e anche i rapporti fra le persone è un tema che ci riguarda e che ci siamo molto contenti che si possa svolgere nella nostra città una riflessione come questa che poi è anche un percorso di formazione quindi di approfondimento vero su questi temi e che ci dia la possibilità di portare il nostro contributo, il contributo della città di Prato fatto di un contributo reale alla manifestazione ma soprattutto anche di alcune scelte che riguardano la nostra modalità di affrontare i temi dell'innovazione. Quindi io ringrazio voi di essere qui, vi ringrazio di aver scelto la nostra città e mi piacerebbe diciamo solo fare un piccolo ancenno su un tema. Oggi siamo in una fase molto complicata per chi governa i territori e in generale nelle relazioni fra le persone. È sempre difficile avere fiducia nelle dimensioni collettive, avere fiducia nel futuro. A Prato spesso si dice che le generazioni degli anni 50-60 erano sicure che i propri figli avrebbero avuto un futuro migliore, avrebbero avuto una prospettiva di vita e di qualità della vita migliore. Oggi nonostante la qualità della vita rispetto al 900 sia migliorata per tutte le famiglie, si ha la percezione reale, poi c'è realmente un problema economico, ma si ha la percezione che questa situazione non possa migliorare mai. E questo comporta una difesa dei territori, una difesa delle persone. Si affronta da soli il futuro senza avere fiducia nelle istituzioni, ci mancherebbe altro nella politica, non ne parliamo nemmeno, ma nemmeno nelle dimensioni dell'informazione. Quindi c'è proprio la necessità di condividere nuovamente quello che succede e come si affronta questa sfiducia nei confronti del futuro. Ecco, vorrei e mi piacerebbe che anche dalla riflessione e dalle riflessioni importanti che verranno fatte stamani e poi in tutta la giornata di oggi si affrontasse questo tema, cioè fosse al centro, cioè la tecnologia non è astratta, non è un tema... È vero che è uno strumento, ma noi dobbiamo scegliere come la utilizziamo e come rispondiamo, secondo me, a questa domanda che è la domanda che dovremmo farci come società, come cittadini. Grazie.